Testa serologici gratuiti a tutti gli studenti del territorio. A Montevarchi si è conclusa così la prima fase di screening all'interno delle scuole. La cosa importante era riuscire a partire con la scuola, cercando di evitare dei casi magari asintomatici, che come sappiamo, soprattutto nei bambini e nei ragazzi, sono particolarmente diffusi. Oltre 1.500 i bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, residenti a Montevarchi o comunque studenti delle scuole montevarchine, che a settembre hanno aderito alla campagna, dunque circa uno studente su due. Abbiamo visto una grande attenzione da parte delle famiglie a cercare appunto di utilizzare anche questa opportunità, perché ormai siamo entrati dentro a un'attenzione alla prevenzione e all'utilizzo di tutti gli strumenti a nostra disposizione. E' per questo che abbiamo donato anche 1.250 mascherine prodotte da un'azienda del territorio, proprio il primo giorno di scuola, le scuole primarie, proprio per mandare un messaggio di educazione civica. Tutto questo è stato possibile grazie a un corpo di volontari incredibile, perché è stata un'operazione veramente complicata, 1.500 ragazzi che sono stati sottoposti a test, grazie alla disponibilità dell'esercito della Croce Rossa italiana, dell'Istituto Palloni ha messo a disposizione a titolo gratuito i propri locali e i propri professionisti, ma tanti altri volontari, sia del Lions, della Misericordia, della Protezione Civile e tanti medici e infermieri che comunque hanno dedicato il loro tempo per cercare di fare un'azione credo di grande importanza. La campagna si ripeterà ogni mese con cadenza regolare durante tutto il periodo di emergenza sanitaria. Il prossimo appuntamento è già programmato per sabato 24 e sabato 31 ottobre. Questo è un aiuto sicuramente nella migliore gestione di questa ripresa, che però deve essere una ripresa con la massima sicurezza. Sempre sul fronte della lotta al contagio, entro il mese prossimo sarà attivata anche un'altra opportunità per i residenti, tamponi rapidi gratuiti grazie ai quasi 70.000 euro, frutto della raccolta fondi lanciata durante la pandemia. Questo permetterà quindi di dare risposte rapide, gratuite naturalmente alla nostra cittadinanza e di evitare quindi l'affollamento anche dell'ospedale che altrimenti si troverebbe sicuramente in maggiore difficoltà.